Oggi sul nostro territorio c'è tanta attenzione a quelle che possono essere le varie occasioni di sviluppo e queste occasioni vengono rese possibili anche da una forte sinergia che si è andata a instaurare negli anni e che in questo momento si sta concretizzando con quelle che sono proprio le società civili, parti industriali, aziende private con amministrazione pubblica, perché noi crediamo che la vera sinergia tra queste due parti possa creare quelle reali condizioni per uno sviluppo socio e economico del nostro territorio. Possiamo gridarlo ad alta voce che abbiamo tre punti fondamentali che porto a rivolto e posizione strategica. Ovviamente forse in quest'ultimo periodo non sono state in qualche maniera valorizzate come si dovevano realmente valorizzare, ma ci stiamo mettendo tutto l'impegno e tutta l'energia affinché questo possa di nuovo prendere la giusta evidenza nel nostro territorio.